ok grazie NB for the information we are getting better and better è il mio informatore io chiamerei il socio che mi manda foto e immagini che possono essere confutate anche con altri siti che fanno questa cosa nonostante siano tutti quanti natural questo si chiama bodybuilding hardcore per cui natural si facciano un attimino da parte per quanto riguarda questa gara si presenta lì la brada inutile che io vi faccia vedere la line up anche se sarebbe nobile e di conseguenza e fa la parte del leone ma come era stato predetto nell'ultimo video che al Tampa Pro sarebbe arrivato e avrebbe sbranato tutti quanti perché al Texas ci sarà Carlos Junior e Andrew Jacket e lì non è che te la puoi cavare come ti pare nobile nobilissimo comunque partiamo inutile che vi faccia vedere la line up perché questo è il secondo ed è molto 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 lontano dal livello di lì che è completissimo poi per quanto riguarda le cazzate le stronzate sentite su alcuni siti ma perché da naturale non hai non sei un addetto ai lavori di conseguenza non puoi dare dei giudizi il braccio è diverso adesso lo vedremo per quanto riguarda strappi e varie ferite sei un gladiatore prima o poi ti farai e per quanto riguarda me niente da poter dire dorsali diversi cose non nobili ma un gigante tra le pecore assolutamente grandioso ma andiamo avanti asimmetrie tutto il resto il nostro amico nobile non sa neanche di che cazzo sta parlando ricordiamo che questo si chiama Anter Labrada figlio di Lila Brad detto Fleer cioè pulce è riuscito io lo preferisco centomila volte a Chupan a Big Rami perché nonostante abbia tenuto i volumi di braccia e gambia ha tenuto la linea del padre cazzo genetica e genetica anche ci sono altre persone con la quale se la deve vedere e soprattutto al Texas però mi sembra di sentire il big man week dove alla fine si presenta con 25 partecipanti presti arriva secondo dietro Brett Wilking che poi si presenta l'anno dopo con 11 partecipanti sarcone a fare la sua figura di cacca non si fa lo splendido alla prima uscita questo sono comunque gente che gira ecco così riusciamo a vedere un attimino qualche cosa primo e secondo della Rosa con Anter schiena completamente differente lavoratissima nonostante nessuno di due abbia i pancioni come dicevano quelli degli anni 90 che avendo pancioni e spanciamenti non potevano avere un lower back tirato in questo caso non ce n'è ogni posa questa poi è assolutamente assurda con delle braccia che sono fuori dalle grazie di Dio e si sapeva che avrebbe fatto il leone e l'ha fatto in tutti i suoi possibili posa questa è la linea per quella che possa servire un piccolo appunto per me è perché dice un sacco di cacchiate uno strappo pettorale può pregiudicare e ha pregiudicato come avete visto sia la parte destra che è un capo lungo che è più corto e si inserisce sul capo piccolo alla prossima